Era stata presentata come l'operazione ecologica dell'anno, il ritiro e lo smaltimento dei vecchi televisori a tubo catodico per poi rivenderne i pezzi donando seconda vita agli elettrodomestici usati. Titoli su giornali e tv siamo nel 2015 con l'Anconetano primo caso in Italia e invece i televisori venivano sì ritirati ma non smaltiti legalmente come vorrebbe la normativa sui rifiuti pericolosi vetrosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche IRAE, ovvero non avveniva questo. La separazione del vetro del televisore e del tubo catodico rimuovendo però alcune sostanze pericolose che si trovano all'interno dello schermo, quindi o sostanze fluorescenti oppure ossidi di piombo. Così l'indagine dei carabinieri forestali di Ancona, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia, ha permesso di scoprire un cimitero di televisori potenzialmente pericoloso ad Agugliano in una zona a vincolo paesaggistico. Alle mie spalle il torrente ha qualche centinaio di metri linea d'aria dall'impianto che è stato sequestrato, quello dove venivano stoccati i vecchi televisori a tubo catodico. Il rischio è che le polveri possano finire nelle falde e inquinare gravemente l'ambiente. Bisognerà fare una caratterizzazione dei suoli e delle acque per vedere se questo pericolo è attuale. I numeri dell'operazione Rae Hell parlano di 11.000 tonnellate di rifiuti pericolosi, il sequestro di conti correnti e postali per oltre 3 milioni di euro, 20 indagati, due sono anconetani e il sequestro di 12 camion. Contestati a vario titolo, reati di associazione a delinquere, traffico illecito di rifiuti e falso in atto pubblico. Un giro da 2 milioni di euro di guadagno illecito tra Ancona, Arezzo, Lucca e Rimini. Le ditte che conferivano pagavano una somma all'azienda per effettuare il recupero e l'azienda non faceva le procedure previste.